L'assalto è avvenuto attorno alle 3.30 con un vero e proprio commando. Prima è stata bloccata la strada a nord e a sud, cercando in un primo momento di abbattere gli alberi sul ciglio della strada, poi prelevando dei mezzi all'interno di un'azienda di lavorazione di marmi. A quel punto i malviventi con una ruspa hanno divelto le tre colonnine Bancomat del distributore Kuwait nei pressi del centro commerciale Universo di Silvi Marina. Il commando però non è riuscito a portare a termine il colpo, evidentemente studiato nei minimi dettagli, ed ha dovuto abbandonare tutto, fuggendo senza refurtiva. E il racconto dell'ennesimo assalto ai distributori di benzina, durato circa quattro minuti, è ripreso tutto dalle tante telecamere di videosorveglianza, ora al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando su quanto accaduto, soprattutto per individuare, l'auto con la quale i malviventi si sono dati alla fuga. Stamattina i militari hanno restituito le cassette di sicurezza al titolare della stazione di servizio, che ha stimato i danni ingenti in circa 50.000 euro. Sempre in mattinata ci sono stati disagi alla circolazione stradale sulla Nazionale Adriatica Nord tra Silvi e Pineto, con gli operatori dei Vigili del Fuoco impegnati a rimuovere gli alberi che i banditi non sono riusciti a far cadere sulla carreggiata.